Visto che ci sono anche altre realtà che fanno formazione in più, come un attimo è impostata, come vi ponete verso gli allenatori e così. Ok, allora di base la formazione in campo nasce con l'obiettivo di fare una formazione un po' a 360 gradi nel senso di andare a affrontare tematiche non solo prettamente calcistiche ma tutti gli aspetti che rientrano nell'ambito calcio. Quindi c'è un discorso anche che viene suddiviso in parte di metodologia, quindi di impostazione e allenamento, quindi un discorso sui lavori di principi calcistici e tecnici che è la base. Poi ci sono altri aspetti come l'aspetto atletico, quindi fisico-motorio, quindi c'è uno settore proprio dedicato a questa parte qua, adesso poi ti spiegherò un po' più nel dettaglio. Poi c'è una parte legata ai dati, all'analisi statistica, all'analisi delle immagini, quindi il discorso di match analysis. Oltre a questi aspetti c'è anche degli aspetti legati ad esempio all'alimentazione invece, quindi dei corsi specifici legati alla parte con una nutrizionista, quindi sul discorso anche del cosa mangiare, lo sportivo, quando mangiare e così via. Altro aspetto che questo è ancora in forma di sviluppo, ma che comunque si vuole sviluppare un po' è anche la parte psicologica sostanzialmente, quindi anche come comportarsi con le varie fasce d'età, con l'atteggiamento dell'allenatore. Questi sono un po' i punti che si stanno cercando di toccare in questo momento, in questa realtà. I corsi si distinguono per impostazioni anche diverse, abbiamo dei corsi che vengono impostati direttamente in loco. Infatti andiamo a partire dal corso per adesso principale con più durata maggiore, che è il corso che poi è gestito da Massimo De Paoli, che è uno dei maggiori referenti. In loco? Voi dove siete? Questo viene sviluppato a Dazzano, in provincia di Bergamo, ci sono degli incontri, sono circa 13-14 incontri all'anno per corso, c'è il primo anno e il secondo anno, e si sviluppano alla sera, di solito del lunedì sera dalle 9 alle 11 e per due ore si sviluppa una parte teorica e anche una parte pratica. Questa è un po' l'impostazione in questo momento, che poi magari tendenzialmente in base anche alle esigenze e alle risposte che abbiamo durante l'anno, vediamo se l'anno successivo a portare delle modifiche e svilupparle in modo diverso. E qui si andranno a trattare i temi principali, tecnici e di tattica individuale e collettiva. Quindi questo è il corso che viene sviluppato in primis, sul posto. Lo stesso corso in modo parallelo per dare anche disponibilità a chi non può raggiungere il loco, così viene fatto un corso invece Skype, quello viene tenuto direttamente da me, sono Guido Monfrinoli, lavoriamo anche noi su discorsi sempre di principi di tecnica, tattica, individuale e collettiva, e quindi metodologica di base, siamo anche nel secondo anno e abbiamo realtà diverse. È un numero ovviamente a persone più ristretto, perché comunque interessa seguirli nel dettaglio. Abbiamo sempre un incontro mensile, anche noi per circa 13 lezioni totali. Su questo lavoriamo con gente di tutta Italia, quindi da chi ci raggiunge dalla Sicilia fino a chi arriva dal Trentino, per fare degli esempi. Quindi anche qui ci sono questi aspetti. Adesso sono partiti, proprio in questo momento, ma che è un po' l'obiettivo anche per la stagione successiva, dei primi webinar, diciamo, gratuiti per far vedere altri pacchetti, che sono quello appunto della parte fisico-motoria, quindi con il professor Osvaldo Monbelli, dove si sviluppano alcuni aspetti legati appunto alle condizioni atletiche, anche il gesto della corsa, quindi i gesti motori. Da qui si parte proprio in questo momento, troviamo tutte queste informazioni su formazioneincampo.com. C'è un pacchetto di tre lezioni che partirà a breve, dopo aver fatto il primo webinar la settimana scorsa, dove si affrontano le tematiche, ad esempio, della preparazione atletica per la prossima stagione. Quindi quell'impostazione dare ai vari gruppi di lavoro, quindi dai giovani ai grandi. Perché poi un altro aspetto nostro è che si lavora sia con i grandi, l'impostazione sia con i grandi, ma anche con il settore giovanile di tutte le varie fasce. Quindi lavoriamo su tutte le categorie, perché quindi sono principi generali da prendere, poi vanno scomposti o analizzati in funzione dell'età. Ok, quindi bambini, ragazzi, più spadre della vostra categoria. Esatto, ad esempio sulla produzione atletica questo, invece sul discorso calcistico e metodologie, in questo momento è importato soprattutto sulla conoscenza dettagliata dei principi e dei gesti tecnici, che poi verranno riadattati in base alle conoscenze che vengono fornite agli allenatori alle varie categorie, quindi come disporli, come insegnarli, in che modi, in che quantitativi. Altro aspetto che è appena partito, che è stato ottenuto da un match-analisi professionista, che è Matteo Camoni, invece, che è quello legato alla match-analisi, all'analisi dei dati, appena anche lui ha effettuato un webinar di promozione, adesso partirà con un corso comunque a numero ristretto, di fare un esempio caso pratico di analisi di partite, per fare un'analisi poi dettagliata dei video, più un'analisi dei dati. Quindi altro aspetto che sta subentrando nel calcio, e quindi come utilizzarlo, ok, in ambito professionista, ma anche come utilizzarlo nell'ambito di lettanti, quindi con minore dispositività, cosa fare, quali elementi tenere sempre in considerazione, come valutarli, e quindi iniziare ad avere un rapporto anche con il dato, con la ripresa video, con il dato e queste cose qua. Poi, dopo di questo, il corso è quello di altri invece un po' più generali, legati alla nutrizione, quindi aspetti che vengono dati da un nutrizionista, che danno come alimentare lo sportivo, nelle sue varie fasce d'età, quando, oltre il come. Questi sono degli aspetti principali. Detto ciò, su questo, dimmi. No, no, quindi fondamentalmente uno che incomincia la formazione con voi, ha un percorso di un anno, prima di concludere il cerchio, quindi ha un ampio range di apprendimento, di lezioni su cui attingere. Sì, ecco, allora, noi sì, partiamo da quello. Diciamo che comunque ogni anno è impostato su tre anni la scuola, perché noi riteniamo che la formazione non può essere la formazione fatta in un weekend e si sa tutto. Noi riteniamo che la formazione è anche frutto di sacrificio e di capire che ci vuole del tempo per apprendere delle cose. E quindi facciamo anche degli step, delle cose più brevi, però precisiamo che lì dentro non c'è tutto il nostro metodo di lavoro o le nostre impostazioni, c'è qualcosa. Noi crediamo che una formazione completa sono appunto un percorso di tre anni, con circa 10-13 incontri, quindi arriviamo quasi a 40 incontri totali, dove allora si possono sviscerare con più calme e più aspetti, perché comunque verifichiamo che quando gli allenatori arrivano da noi, che sono allenatori che possono essere patentati o alle prime esperienze, quindi allenatori di tutti i tipi, ci sono tanto allenatori che hanno caratteristiche diverse fra di loro, quindi magari qualcuno è più afferrato o approfondito più temi rispetto ad altri, quindi anche su quello per renderli poi omogenei su tutte le nostre conoscenze. Riteniamo che nell'arco di un weekend sia difficile trasmettere il tutto, quindi noi facciamo anche queste cose e abbiamo anche dei pacchetti a proporre di questo tipo, poi realmente il corso base funziona con questa cadenza un po' più lunga e ricca di appuntamenti. Proprio legato al fatto che dicevi che c'è qualche allenatore che arriva al corso più in un aspetto rispetto a un altro, c'è qualche aspetto che vedete magari di cui gli allenatori hanno più bisogno rispetto a qualcun altro, rispetto all'area in generale. Sì, in generale, guarda, una cosa che ho notato e che ci siamo confatti e che abbiamo notato, non è intanto se la conoscenza, per esempio, un modello di un altro posto, anche adesso con tutte le possibilità che il web ci metta a disposizione, mi ricordo anche solo 7-8 anni fa, che per andare a informarsi di molte cose bisogna prendere la tua macchina, viaggiare, andare sui posti, adesso con il web raggiungi molte più nozioni. Però una cosa che è noto poi è la parte concreta, perché poi comunque nel corso, oltre a teoria, c'è anche una parte concreta, quindi preparare delle esercitazioni, delle progressioni di lavoro, delle attività. E su questo anche la persona che è più ricca in nozioni a volte perde il suo percorso, quindi inizia a predisporre delle programmazioni che dall'obiettivo iniziale alla fine si va a accorgere che magari ha perso il suo filologico e perde l'obiettivo che si era più fissato all'inizio perché ha fatto un insieme di tante, diciamo, conoscenze, ma ha perso un po' il focus iniziale qual era. Quindi un ordine nel programmare il lavoro. Questo a volte si tende a perdere. Ho capito, ho capito. E la seconda cosa che volevo confermarti in questo aspetto era invece l'altro tema diciamo che vediamo dove c'è un po' di difficoltà è il fatto di sapere tante cose ma quando poi vengono attuati in campo dei ragazzi non sempre c'è la capacità di verificare l'errore e trovare la soluzione per modificare magari l'attività proposta perché a volte poi il problema dice il ragazzo non sa farlo poi forse realmente l'attività che è stata proposta è stata eccessivamente complessa e quindi in quel momento bisogna essere bravi a capire che doveva essere leggermente semplificata per fare un esempio o viceversa era talmente facile che il ragazzo non portava a uno step superiore anzi bisognava complicare qualcosa quindi questa lettura se l'attività funziona o no qualche volta porta a delle difficoltà. Certo. Una cosa legata a questo che vedo nel mio piccolo ovviamente è che magari a volte i nonatori non abbiamo una conoscenza del bambino in sé del ragazzo a livello o no di fase evolutiva e quindi come uno ci si può ci si può come si dice porno insegnare e al di là della parte psicologica che metto che svilupperete a breve all'interno della vostra formazione c'è comunque un qualcosa dedicato alla didattica? Dunque noi iniziamo quantomeno a trasmettersi un discorso di didattica far capire che ci sono delle fasce d'età e che delle fasce d'età hanno dei requisiti da ottenere e non pensare di mettere dentro lo che vediamo nei grandi e porlo dentro nei piccoli in misure più ridotte cioè ogni cosa ha un suo step e ci sono degli obiettivi magari da raggiungere nelle fasce più piccole per salire poi quelli successivi facendo di capire il buon senso sono delle gestualità magari tecniche quindi sul più piccolo preveggiamo la figura uno a uno quindi io e il pallone quindi il bambino per capire questo perché tendenzialmente poi essendo giochi di squadra molti già da piccoli cercano subito di relazionarsi subito solo con il collettivo e così ma realmente il collettivo anche per funzionare devono esserci i principi tecnici di base che funzionano quindi dar molto rapporto e la capacità al ragazzo di rompertarsi con l'attrezzo che è il pallone e oltre questo anche la possibilità di sbagliare e provare esperienze per fare degli esempi questi sono perché tendenzialmente adesso ci capitava molto questo discorso invece che il collettivo quindi i ragazzi erano più vincolati a giocare sempre a palle ai compagni e almeno magari affrontare dei duelli con gli avversari anche se si sbagliavano si perdevano però almeno i ragazzi si poneva dei quesiti e provava a trovare delle soluzioni perché noi non siamo sempre noi non siamo delle idee sempre di dargli subito tutte le soluzioni a volte anche farli sbagliare e farli ragionare loro con la propria testa aiuta a rendere anche una diciamo un livello cognitivo più dinamico non più imposto solo da ordini o consigli che vengono dati da una persona adulta questo è un po' guarda una cosa che vedo anch'io nel mondo nel rugby con i bambini magari vedendo come giocano gli adulti ok la televisione è un gioco con gli adulti e ovviamente qui la quantità di passaggi è enorme ovvio perché il gioco è strutturato organizzato in modo diverso molte volte si pretende che anche i bambini facciano lo stesso numero di passaggi bravo esatto e vedo molto che vedo molto anche io all'inizio ero così fondamentalmente poi ho un po' ampliato la visione però si c'è una mancanza di dire lavoriamo prima l'uno contro uno ovvio noi abbiamo meno difficoltà a gestire la palla ovvio c'è l'abbiamo in mano e quindi è un po' più facile da quel punto di vista e nel calcio no c'è l'alpiede quindi è un po' più impegnativo magari anche il contrasto con gli avversari però vedo proprio anche nel nostro modo del rugby che questo uno contro uno a volte viene quasi dato per scontato e quindi gli viene data l'input di passa passa la palla però è come fondamentalmente se nel calcio si passassero la palla tutti sulla linea di difesa e quindi saranno tutti fermi quindi 10 passaggi ma siamo andati verso la porta no ecco però senza l'efficacia esatto esatto e a volte vedo che anche noi nel rugby abbiamo questa questa pretesa che a un certo punto di vista ovvio lo fai perché magari non lo so pensi che magari sia meglio per i ragazzini per i bambini però in realtà poi vedi quando diventano più grandi almeno quello che vedo è che nel momento in cui si relazionano loro la palla e l'avversario non sanno cosa fare certo perché si trovano spaesati eh sì eh sì infatti guarda un esempio su questo io una domanda che pongo molto quando facciamo queste cose è il discorso cos'è che incide e fa differenza il calcio creare superiorità numerica è vero che la superiorità numerica la si può anche creare attraverso dei passaggi quindi delle occupazioni degli spazi dove va a eliminare alcuni giocatori ma non è sempre facile perché c'è dietro un procedimento tutti gli squadre quindi sappiamo benissimo che a volte insegnare movimenti a dieci persone invece che a una diventa complicato perché ci sono tempi e spazi che devono anche combaciare fra di loro e allora dico allora ponetevi un attimo e fate finta di essere un allenatore di prime squadre grandi squadre che giocatore andreste a chiedere al vostro diretto sportivo così è il giocatore che sa saltare l'uomo perfetto lo sa saltare l'uomo bisogna allenare lo sa saltare l'uomo quindi una delle caratteristiche di un giocatore che identifica la qualità e la capacità che nel dribbling lui sia uno che ne tenta tanti ed ancora di più quando li tenta ha anche la riuscita alta del risultato quindi infatti nell'ultimo webinar che è stato fatto sull'analisi dati è stato fatto vedere due giocatori attualmente di società professionistica giovani però di qualità ormai importanti si è andato a analizzare il dato di quanti dribbling come in una partita e in proporzione a ralti non sono pochi e soprattutto hanno una resa da 70 all'80 per cento di efficacia del risultato quindi vuol dire che queste persone stanno a driblar e questi sono quelli che in questo momento vengono definiti come nuovi talenti che incidono quindi ancora prima io nelle fasce piccole dovrei pormi questa è una caratteristica importante che dovrei inserire nei miei ragazzi ovvio che questo nei piccoli predispone anche che il piccolo può sbagliare e per diam palle prendiamo gol però è un percorso di crescita certo poi ovvio tutto va fatto con logica non che poi se il bambino è in difficoltà continua a insistere prendo 25 gol perché il bambino ha sbagliato 25 volte tutto va fatto con delle certe proporzioni e in un determinato modo questo bisogna valutare questi sono poi gli aspetti anche perché magari poi andiamo a secondare un po' come è la fase evolutiva del bambino un po' più egoista esatto come normale che sia quindi magari diciamo la nostra richiesta è un po' più conforme con quello che è il suo mondo esatto il suo modo esatto il suo modo di vedere il mondo in quelle fasce d'età perché all'inizio è egoistico io vengo al pallone il pallone è mio se giochiamo perché io il pallone se non ce l'ho però lo porto a casa e non giochiamo più perché il pallone è mio cioè esatto quindi a volte stravolgere la natura non è sempre un senso è giusto stare dietro anche a queste situazioni a questi aspetti perché sono le loro caratteristiche tanto in automatico io ritengo noi quando pensiamo anche di allenare la parte cognitiva quindi da te saranno anche loro i primi che in alcuni momenti troveranno che dicono è più facile avere la collaborazione del compagno per risolvere un problema che non averlo quindi arriveranno anche loro da per sé a capire che l'aiuto di un'altra persona è sempre utile certo io vedo nei bambini piccoli nei bambini nel rugby è un po' più impegnativo fargli comprendere il fatto che quando hanno la palla e magari c'è un avversario che li sta placando non devono per forza diciamo buttarla via che non la definiamo così quando lanciano la palla un po' a caso però è normale perché comunque prendere un placaggio per quanto si abbia 7-8 anni comunque è un'azione abbastanza fragiosa quindi è comprensiva dal punto di vista però in alcuni casi vedi che può essere d'aiuto creare delle situazioni del genere per far capire a qualcuno a qualche bambino a qualche ragazzino magari la collaborazione quindi magari lo metto in difficoltà ovviamente sempre prendendolo con le pinze questo concetto qua per costringerlo tra virgolette a dover passare la palla ovviamente creano delle situazioni che poi dentro la sua testa siano utili a quel ragionamento la poi quando lo riporta nel gioco che se no otteniamo un concetto di prima ci passiamo la palla senza efficacia ascolta che ti chiedo poi di curiosità e invece dall'altra parte nel senso gli allenatori che vengono i vostri corsi c'è qualche richiesta in più c'è qualcosa che nella maggior parte dei casi vi chiedono di tecnica magari anche didattico di base guardo sono tutti allenatori curiosi intanto è una cosa perché se no è difficile mantenere anche un corso con una certa costanza di questo tipo è per quello che abbiamo iniziato anche a fare altri format perché chi è più propenso a migliorare sa che formarsi vuole dire anche sacrificio e quindi costanza nel fare però c'è anche chi per impegni vari per scelte deve essere preso con solo alcuni spunti quindi con delle cose più brevi meno impegnative sempre ricchi di concetti ma comunque più brevi di base vedo che una cosa è appunto l'impostazione del lavoro che a volte incuriosisce a capire di avere un filo logico altra cosa è di approfondire le conoscenze sui principi tenni tenni citatici in modo più dettagliato nel senso che si è sempre convinti di sapere poi si scopre che c'è altro e quindi vogliono approfondire queste tematiche di base poi ci sono le figure ognuno preferisce c'è quello che è più legato all'aspetto fisico-motorio quello più l'analisi dei dati ognuno poi ha la sua caratteristica qualcuno più ha il suo atteggiamento quindi poi ognuno ha qualche caratteristica che gli interessa di più rispetto ad altre però di base è un po' questo e secondo me è un po' anche la parte concreta quindi poi di sperimentare e far vedere le attività realmente svolte per capire quali sono i problemi quindi anche in corso di istanza riusciamo a farlo perché loro nel secondo anno comunque iniziano ad avere contatto con il video con la ripresa video propongono le attività le vediamo le commentiamo e quindi proprio nel concreto vediamo delle cose che funzionano o che non funzionano e che si potrebbero rivedere questo è un po' e com'è il mondo del calcio rispetto al tipo di formazione che fate voi è un qualcosa di conseguente o magari un po' nuovo allora noi questa cosa del mondo del calcio di base è far capire allora non è che andiamo a stavolgere nei principi o da quello che viene dato dalla linea della federazione anzi però far capire che qualsiasi principio qualsiasi gesto deve essere approfondito sotto varie tematiche che possono essere lo spazio il tempo la percezione quindi che ogni non fermarci c'è dal primo impatto della lettura del gesto del principio cioè al dietro c'è molto di più cioè l'allenatore vuoi far capire che l'allenatore è diventare un allenatore pensante curioso e che deve approfondire sempre quello che affronta non interessa che l'allenatore finisce il percorso secondo il mio punto di vista una delle cose importanti è che quando lui finisce il percorso ogni cosa che poi farà si porrà sempre delle domande se ha fatto bene se ha fatto male ma in quali aspetti non perché lui ha preso questa cosa questa informazione e la dà sempre per scontata e per giusta che bisogna sempre riportarla così nelle situazioni che lui avrà magari con la situazione generica va bene poi quando lui la riporti in un determinato contesto dovrà porsi le domande per vedere va bene così o devo creare delle sfumature diverse questo è uno dei primi obiettivi che secondo me viene infatti nei corsi giustamente ma anche perché è giusto perché i corsi anche principali possono darti un'inferenatura poi tocca a te a incidere a fare la differenza come figura però per farlo capire secondo noi questa cosa non si può ottenere in uno o due incontri è una cosa comunque che richiede il suo tempo e deve essere affrontata perché se mi chiedo e mi domando se andiamo a scuola ci sono 5 8 anni barra poi le superiori metti anche sull'università percorso di università al minimo sono 3 anni vuol dire che dietro ci vuole del tempo anche per automatizzare le cose penso che in 3 o 4 incontri puoi capire qualcosa ma non hai chiaro ancora tutto questo è un po' il discorso poi è interessante che uno ha anche tanto un mese di tempo diciamo tra un incontro e l'altro per magari mettere in pratica quello che è stato affrontato e voi li seguite gli allenatori nel senso in quel mese l'allenatore si confondano noi abbiamo per dire la lezione diamo degli input poi non chiediamo ad esempio la lezione materiale magari noi facciamo due lezioni e alla fine della seconda per la seconda lezione ci sarà la richiesta di un compito per la terza lezione quindi non è che tutte le lezioni hanno anche un compito da svolgere comunque loro hanno i nostri contatti in qualsiasi momento o qualsiasi dubbio o difficoltà che può trattarsi nel corso ma hanno anche un dubbio sulla loro stagione in qualcosa che stanno provando ci chiamano tranquillamente e così anche infatti perché moltissimi di loro è nato un rapporto anche di amicizia che ci si sente oltre al corso ormai io sono la prima l'avevamo sviluppato in un'altra forma ormai sono sette anni otto anni che facciamo formazione ho allenatori che hanno finito il percorso ben quattro anni fa e ci sentiamo tranquillamente ancora adesso per raccontarci come stanno andando le situazioni e per confrontarci su alcuni aspetti ho capito e ci sono all'interno dei vostri percorsi dei come chiamarli delle metodologie dei principi un qualcosa che può essere anche utile per altri per altri sport per altre discipline sportive secondo noi sì perché noi legati ai principi che di base detta federazione quindi tecnici e tattici andiamo a prendere anche dei parametri di riferimento invece che sono per noi legati importanti al discorso del metodo che sono lo spazio il tempo la percezione e il linguaggio cioè quindi tutti questi parametri che citavamo prima i gesti tecnici e i dati rituali rivisti sotto questi parametri qua quindi vedere un tempo in più aspetti quindi prima dopo durante qualcosa quindi come si evolve il gesto che ho preso in quel caso in analisi lo spazio quindi se lo faccio in una determinata parte di campo rispetto ad un'altra determinata campo il gesto sarà lo stesso può modificare può modificare poi il linguaggio può aiutare lo sviluppo di movimenti di gestualità secondo noi sì uno per intanto anche esempio sul gesto il linguaggio può anche comprendere la scomposizione del gesto quindi il gesto sì va bene il calciare ma il calciare da quante fasi è composto quindi sapere da quante fasi è composto e ogni fase cosa può richiedere di gesti di più che gesti di caratteristiche per svolgerlo in maniera corretta quindi il linguaggio del corpo tu intendi anche una parte anche legata al linguaggio del corpo poi il corpo un po' la gestualità o un po' il principio dipende un po' per dire anche sul colpo di testa sappiamo che ci sono più fasi quindi dalla rincorsa quindi come questa viene fatta quindi allo stacco lo stacco come deve essere fatto piedi pari non piedi pari un piede il perché viene fatto con un piede invece che due quindi capire il perché l'inarcamento quindi come il corpo deve porsi per andare a rimpattare la palla il colpo di testa quindi la palla dove viene colpita fino a poi all'ultima fase la ricaduta quindi l'atterraggio quindi capiamo che in ogni fase deve esserci delle riflessioni ho capito questi sono un po' gli aspetti quindi su noi questi aspetti qua sono la facilità che possono essere riadattati secondo noi non solo nell'ambito del calcio ma anche negli altri sport soprattutto il modo di leggere una determinata azione un determinato gesto quello sicuramente sì una mia curiosità e quindi nel momento in cui voi andate a spezzettare un gesto tecnico quindi come mi parlavi adesso per esempio dello stacco di testa andate a traurare in modo tecnico ogni singola parte del gesto tecnico o è solamente un qualcosa che dà allenatori un punto di riflessione che così poi loro quando andano in campo lo diamo quando lo trattiamo ci soffermiamo su ogni parte dando degli aspetti cioè delle caratteristiche comunque cosa possiamo osservare di ogni fase e poi il gesto ovvio che è fatto nella sua interezza quindi è per far capire l'annatore che se deve fare delle correzioni su quel gesto deve verificare ok il gesto è fatto in più fasi non è detto che tutte le fasi del gesto siano sbagliate magari si accorge che il problema è nella rincorsa e la rincorsa è quello che genera poi un gesto non efficace quindi quello è poi magari c'è tutta la parte motore che è fatta bene proprio l'impatto con la palla quindi il problema è più grosso quindi ci sarà da verificare su quello aspetto per far capire l'annatore che dice ah non so colpire di testa ok non so colpire di testa ma qual è il motivo esatto perché poi è tutto facile ah questo non so fermare la palla e perché non so fermare la palla cioè per far capire che nel calcio anche lì esistono i dettagli quindi questo è un po' il concetto che vogliamo trasmettere assolutamente condivisibile è un qualcosa su cui dovremmo riflettere un po' tutti per questo ti ho chiesto per questo ti ho chiesto sì 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 ok è bello buono cioè legato anche ad altri sport secondo me ah beh assolutamente sì assolutamente sì mi viene in mente a me il rugby banalità il passaggio stessa cosa a volte ci vengono diciamo ha sbagliato a passare la palla ha sbagliato a passare la palla o non è l'altro capace di prenderla o che cosa o l'ha presa male lui quindi sì ci sono un'infinità di aspetti la riflessione su ogni singolo aspetto è importante e ti chiedo l'ultima cosa un principio è che che non so un principio che magari racchiude tutto il vostro tutta la vostra formazione quindi che non so la libertà di espressione o qualcosa del genere per noi la parola chiave è condivisione nel senso che per noi condividere si intende intanto che noi di base questo gruppo è nato poi ovviamente il primo fattore è stato Massimo De Paoli che è coinvolto in queste cose e quindi sentate anche un gruppo di amici prima di tutto ma la cosa che abbiamo capito importante tutti noi è che nessuno di noi ha la ricetta magica che è il mago che ha quella ricetta che deve tenersi nascosta noi siamo convinti che ognuno deve mettere le sue conoscenze poco e tanto sul tavolo perché perché se io arrivo con un'idea e il mio compagno ne arriva con un'altra andiamo tutte e due via sicuramente quella sera con due idee a testa quindi il nostro bagaglio culturale è già cresciuto di tutte e due di almeno un'idea in più da quando siamo arrivati quindi noi viene chi piace arrivare lì mettergli le sue conoscenze avere un dialogo confrontarsi perché poi magari su altre cose è piacevole che in alcuni momenti le serate più interessanti sono quelle infatti noi nel corso una cosa che chiediamo di base è che il corso non deve essere fatto da auditori deve essere fatto da persone che interagiscono perché se no chi non interagisce lo segue il corso apprenderà qualcosa ma non apprende come quello che interagisce e interessanti quelle serie sono quelle dove magari su uno stesso tema iniziano a esserci due o tre punti di vista diversi entro sera bisogna arrivare a una sintesi e questo è importante perché poi ognuno magari era fermo su alcuni punti e poi analizzando l'altro modo di vedere hanno capito che forse una cosa era più giusta quella che offriva l'altro collega per noi condividere questa è la parola chiave che unisce questo corso e condividere anche altri aspetti quindi quello che diceva prima lo psicologo la parte del motore la parte dei dati la parte della nutrizionista cioè condividere in tutto certo infatti avevo visto tra i tre video c'era una parte che è un po' massimo adesso non mi ricordo l'aspetto tecnico però mi ricordo che diceva a uno dei partecipanti del corso gli faceva dire giustamente la sua opinione e gli diceva vedete lui ha questa idea ma non è sbagliata è una sua idea esatto e quindi poi sicuramente poi come dicevi te a finisata è una sintesi esatto quello è un po' il concetto di base questo è perché poi ci nasce tutti i mondi che poi un po' l'egoismo è quello che fa a volte la padrone che noi qua lavoriamo un po' combattono nel senso tutti noi se siamo migliori migliora anche il livello e miglioriamo tutti e quindi anche il movimento può solo che migliorare esattamente sì quindi condividiamo questa linea poi da lì ognuno avrà le sue caratteristiche e le metterà in gioco sarà chi sarà più portato per i ragazzi piccoli quelli per i ragazzi medi quelli per i ragazzi grandi quelli per le prime squadre ognuno le avrà però almeno se ci sarà una diffusione di concetti servirà per far migliorare tutto il movimento assolutamente sì assolutamente sì Guido io ti ringrazio ho fatto veramente piacere altrettanto io un sacco un sacco di riflessioni estremamente interessanti però da portare in un sacco di discipline sportive e questo era quello che mi interessava mi fa molto piacere guarda è stata proprio una chiacchierata piacevole anzi un confronto piacevole se dovessi recapitare c'è qualcosa ben volentieri noi siamo a disposizione per confrontarci su altri aspetti insomma perfetto è una micosità che non sapevo dicevi è la pagina che ti occupi come si chiama si chiama allenatore efficace allenatore efficace molto bello titolo importante titolo importante esatto 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 ascolta ti ringrazio ancora veramente e se mai ci saranno su un'altra occasione volentieri quando vuoi scrivi pure senza problemi intanto ti auguro buon lavoro e buona giornata a presto grazie altro tempo ciao ciao